C'ho trovato il nuovo episodio di Minecraft Ida! Ok prendiamo lì Ok prendiamo lì Sono io Valerio Ok prendiamo lì muore, 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 oh, 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 mannaggia la mia, tu muore, ah, il magliale senza carne, ma non è, Sì 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 non hai spaventi no 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 non stoppio 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 si sto spavendo oh papà Oh, no, questa di solito va bene, e no, proseguiamo. Ok, ragazzi, ci vediamo il prossimo episodio.